La voce di Orticola, i podcast a tema botanico a cura di Orticola di Lombardia. Le azale di Villa Carlotta. Se c'è un momento dell'anno che più di ogni altro rende la visita al giardino di Villa Carlotta incantata e indimenticabile, è il periodo compreso fra la metà di aprile e i primi di maggio. Cosa succede in questi giorni? Fra i viali del parco prende vita lo spettacolo della natura, suggestivo e unico, che ha reso Villa Carlotta celebre in tutto il mondo, la fioritura delle azalee. Questa importante collezione, costituita tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 dal duca Giorgio II di Sassogna-Meiningen, vanta decine di varietà che grazie al clima del lago, al terreno acido della zona e alle sapienti cure dei giardinieri, si sono ben adattate diventando arbusti centenari. L'estensione delle aiuole e delle aree con azalee è di circa 4000 metri quadrati, con grandi cespugli che si concentrano nella parte settentrionale del giardino, verso Cadenabbia. Una meravigliosa e variopinta presenza che dona al giardino irresistibili sfumature di colore, visibili persino dalla sponda opposta del lago, per quanto sono intense e vibranti. Un punto particolarmente scenografico e panoramico è quello del piccolo gazebo tra le azalee con vista sul lago, che si raggiunge attraverso vialetti contornati da pareti di azalee che consentono al visitatore di fare un'immersione totale tra i fiori. Molto scenografica è anche la valletta detta Della Zocca, dove un prato si inerpica su pendio in modo sinuoso tra cuscini di azalee in fiore. Le varietà di azalee presenti sono elencate in un censimento botanico del 1958. Tra esse si possono ancora ritrovare i giorni nostri le azalee a mena, dal fiore molto piccolo, a dimora sotto le fronde di un maestoso taxus baccata, nell'aiuola che sale dalla caffetteria verso il teatro di Verzura. Un'altra varietà riconoscibile a foglie parzialmente decidue è la zalea palestrina, dal fiore bianco leggero con gole e riflessi verdi, oppure le azalee mollis a foglia caduca dai fiori gialli, come ad esempio nella Cultivar Klondike, o arancioni nella varietà Gibilterra, o ancora bianchi come nella varietà Persil. La varietà Orion forma arbusti regolari di colore rosa, molto fioriferi, a forma di cuscino. Numerose sono le varietà di azalea a foglia persistente, indica o azalee del lago, che si ritrovano nei cataloghi degli orticolotori della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Nel giardino di Villa Carlotta le azalee sono potate ogni anno subito dopo la fioritura a forbice, recidendo i germogli più lunghi e adottando il taglio di ritorno, che permette di conferire ai cespugli la forma di un cuscino, che la primavera successiva sarà completamente e uniformemente fiorito. Se la potatura fosse effettuata meccanicamente e non in maniera selettiva rametto per rametto, la fioritura non avverrebbe, poiché sarebbero recise le gemme fiorali e i boccioli dell'anno successivo. Molto suggestiva è l'immagine dei giardinieri, che con lunghe scale svettatoi si protendono a potare i larghi cespugli. Le azalee sono inoltre sottoposte periodicamente a potature di svecchiamento, che prevedono l'asportazione di fusti più grossi e senescenti, favorendo l'emissione di nuovi polloni dalla base del cespuglio. Le azalee sono protette con tecniche prodotte per la difesa biologica dai parassiti e molta importanza riveste la concimazione e l'acidificazione annuale del suolo, per mantenere le caratteristiche ottimali per questi cespugli e garantendo così l'esplosività di una fra le fioriture più amate e ammirate del lago di Como. Continuate a seguire i podcast di Orticola di Lombardia sul sito www.orticola.org.